Ragazzi buonasera a tutti, bentornati su Crypto Salad, io sono Federico, oggi è il 16 luglio 2021, facciamo oggi un rapido aggiornamento, Bitcoin è a contatto in questo momento con un livello di supporto molto molto importante, guardiamo quindi la chart sul settimanale, parliamo poi dei livelli di apertura annuali, quanto siano importanti per Bitcoin, in particolare guardiamo il 2021 ma anche l'importanza degli anni precedenti. Guardiamo poi ragazzi insieme la situazione delle altcoin per capire quello che potremo eventualmente aspettarci nei prossimi mesi, quindi ragazzi come al solito se vi sembra interessante lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella per le notifiche e lasciate i vostri messaggi. Ragazzi mi scuso se l'audio non dovesse sentirsi benissimo perché sto usando l'audio del computer, quindi ragazzi iniziamo subito a guardare la chart, siamo su Bitstamp, chart settimanale e come abbiamo già visto diverse volte nei precedenti episodi c'è la media mobile delle 50 settimane che in questo momento è proprio a contatto con il prezzo. Abbiamo perso il supporto della media delle 20 settimane che in questo momento si trova a 48.346.300 dollari in discesa e in questo momento il prezzo sta provando a mantenersi al di sopra della media mobile delle 50 settimane. Storicamente un importante livello di supporto e di resistenza, siamo riusciti a scendere al di sotto della media ma a chiudere la settimana al di sopra di quest'ultima, la settimana del 21 giugno, in questo momento siamo nuovamente a contatto con questa media mobile. Quindi sarà importante chiudere la settimana, quindi la chiusura di domenica al di sopra praticamente del livello prezzo attuale, quindi all'incirca i 31.900 dollari per confermarla ancora questa settimana come punto di supporto. Se ragazzi guardiamo poi i livelli di apertura annuale, come dicevamo sono livelli prezzi molto molto importanti e se andiamo a guardare dal 2017 a questa parte vediamo che ogni volta che c'è un'apertura annuale se questa viene rispettata come punto di supporto tendenzialmente da origine a un mercato rialzista e invece se il prezzo non riesce a mantenersi al di sopra dell'apertura annuale assistiamo a una prolungata fase ribassista. Se ragazzi guardiamo effettivamente 2017 abbiamo apertura annuale, il prezzo trova supporto sull'apertura annuale e abbiamo successivamente il mercato rialzista del 20 e 17. 2018 vediamo qui apertura annuale, il prezzo non riesce a mantenersi sopra il livello di apertura, cerca con un piccolo week di andare al di sopra ma chiude il mese al di sotto del prezzo di apertura e poi abbiamo un prolungato mercato ribassista. 2019 qui il prezzo si posiziona sopra il livello di apertura e rimbalziamo con il rally che si è visto nel 2019 fino a testare esattamente l'apertura del 2018 come livello di resistenza. abbiamo poi successivamente l'apertura del 2020 qui particolare perché abbiamo avuto il covid per cui siamo scesi al di sotto dell'apertura, siamo addirittura tornati in corrispondenza dell'apertura del 2019 per poi rimbalzare e riconquistare anche l'apertura del 2020 e a quel punto violare l'apertura del 2018 che era stato successivamente livello importante di resistenza. Questo ha dato origine a un importante impulso rialzista con una risalita e poi praticamente in questo momento siamo proprio a contatto anzi con il minimo di qualche giorno fa, di qualche settimana fa, i 28.400 dollari. abbiamo proprio testato l'apertura annuale come punto di supporto che per adesso sta mantenendo, quindi fondamentale mantenere chiusure settimanali mensili sopra le 50 settimane e sopra l'apertura annuale del 2021 perché altrimenti le probabilità di andare a finire addirittura all'apertura annuale se guardiamo questo tipo di schema a tornare a livello successivo che è quello del 2018 praticamente intorno ai 13.814.000 dollari in questo momento anche in corrispondenza della media mobile delle 200 settimane che è di solito l'ultimo punto di supporto per bitcoin quindi fondamentale per evitare a mio avviso un prolungamento del bear market e quindi una prolungata fase ribassista è di solito mantenersi al di sopra dell'apertura del 2021 che in questo momento è già stata testata come supporto 28.500 dollari e per adesso ha retto. Guardiamo poi ragazzi insieme quest'altra chart, siamo sul time frame dei due giorni e c'è una interessante trend line sull'RSI che abbiamo già visto insieme ma ci aggiorniamo e come vediamo l'RSI direi che a partire da gennaio 2021 sta creando, ha creato dei massimi che sono tra loro uno più basso dell'altro quindi nonostante il prezzo salisse c'era un'importante divergenza ribassista sull'RSI che poi si è in qualche modo verificata con questo importante dump di maggio e da quando c'è stato un ritorno dell'RSI sui due giorni sotto del livello dei 30 in questo momento l'RSI sta creando dei minimi che sono tra loro invece uno più alto dell'altro quindi c'è una tendenza dell'RSI in divergenza con la tendenza del prezzo che invece sta creando dei massimi più bassi e dei minimi tra loro più bassi quindi sarà fondamentale per a mio avviso vedere una ripartenza di Bitcoin violare questa trend line di resistenza discendente quindi se Bitcoin, se l'RSI dovesse riposizionarsi sopra questa trend line potremmo forse quasi con certezza dire che il bull market è destinato a continuare stiamo a vedere un po' che cosa succederà in ultimo ragazzi guardiamo la situazione delle altcoin se guardiamo la situazione dell'ultimo anno vediamo che abbiamo visto un importante altcoin season se guardiamo questo indicatore che ci mostra che quando siamo sopra il livello dei 75 siamo in una altcoin season confermata e lo siamo stati da praticamente fine marzo fino a fine giugno con un livello sopra 75 mentre siamo sprofondati nella terra di mezzo a partire da fine giugno scorso in questo momento l'indicatore si è raffreddato molto siamo ad un livello di 35 e può essere molto probabilmente che nelle prossime settimane le altcoin subiscano ancora di più rispetto a Bitcoin o comunque se Bitcoin dovesse salire potrebbero rimanere indietro ed effettivamente potremmo vedere un livello tornare al di sotto dei 25 con una confermata Bitcoin season e poi eventualmente una ripartenza nei prossimi mesi se lo scenario per Bitcoin dovesse rimanere rialzista quindi se il bottom dovesse essere già entrato a 28.500 e dovessimo vedere una ripartenza per Bitcoin potremmo vedere nei prossimi mesi una Bitcoin season quindi Bitcoin che recupera terreno che torna a salire facendo eventualmente nuovi massimi storici questo ovviamente è lo scenario rialzista e poi una altcoin season altrettanto interessante verso la fine dell'anno e i primi mesi del 2022 questo ovviamente è lo scenario rialzista sia per Bitcoin che per le altcoin quindi in questo momento le altcoin sembrano destinate a subire un po' la predominanza di Bitcoin sia in un scenario rialzista ma anche in un scenario sicuramente ribassista ragazzi grazie per la vostra attenzione fatemi sapere cosa ne pensate noi ci vediamo al prossimo episodio ciao